Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft, vi piace il mio cappello? Non prendere il sole e non scottarmi. Mentre faccio il mio giretto in bici, volevo chiedervi, velocemente, rapidamente, scrivetemi voi nei commenti che cosa vi salta in mente, cosa potrebbe succedere nei prossimi due capitoli, visto che comunque nei prossimi due si chiude il volume, il volume 104 se non sbaglio, quindi si apre poi il volume 105 con la nuova saga, in teoria. Però ecco, potrebbe esserci la mega panoramica mondiale? Potremmo vedere le peggio cose per chiudere questo volume con un hype polgorante? Ditemi voi, ditemi voi cosa ne pensate, così poi magari ne parliamo in live, insieme anche alle altre risposte sul futuro della ciurma, anzi, della flotta di Rufy. Fatti bravi, divertitevi e godetevi il tempo quando c'è. Ciao!